Sono Marco Pili e ci troviamo nel mio studio a Nuracchi. Sono un pittore e scultore. Utilizzo solitamente materie povere, tipo il pane carasau, la terra. Questi lavori che presento in mostra sono fatti naturalmente col pane carasau e la terra. Quest'opera è dedicata al lavoro delle donne, delle tessiture e dei ricami. Solitamente lavoro a tematiche. Un'altra serie che presento è dedicata alla Dea Madre. Sono 7-8 opere intitolate Segni Nuragici. Poi c'è un assemblaggio di 25 pezzi, sempre fatti esclusivamente col pane carasau. Intitolati pergamene di pane. Solitamente lavoro con materiali poveri. Non uso mai pennelli, esclusivamente con le mani. Lavoro sia la terra che il pane. Lo понятно che voi troрафa la terra che il pane.